Aliano, c'è questa polemica a Montesilvano che lei ha sollevato sulla presenza dei consiglieri in consiglio, soprattutto sui gettoni di presenza. Di cosa si tratta? Si tratta di aver scovato topi in giacca e cravatta con le zampe sul formaggio, quegli stessi, come dire, metaforicamente topi che in realtà poi si presentano alla pubblica opinione come i moralisti per eccellenza che in realtà all'interno delle mura del palazzo di città non fanno altro che tentare in ogni modo di arraffare gettoni di presenza, presenziando ad esempio alle prime convocazioni i consigli comunali che si sa che vanno deserte per una questione di formalità, ovvero percependo gettoni di presenza per commissioni che sono aperte e chiuse. Quindi addirittura sentire morale da parte di questi soggetti è veramente ridicolo. Altresì scovavo una richiesta di una modifica di un articolo dello statuto, l'articolo 17, che addirittura gli consentirebbe di percepire il doppio dei gettoni che in questo momento percepiscono per la partecipazione alle commissioni. Lei ha detto Montesilvano come agrigento. Esattamente, Montesilvano produce poco, questo è sotto gli occhi di tutti. Anche il momento di crisi ne è evidentemente una riprova e una motivazione. Da ciò mi meraviglio di come sia possibile che addirittura il Movimento 5 Stelle faccia i convochi quattro commissioni in una settimana di garanzia, addirittura una delle quali senza ordine del giorno, comunicazioni del Presidente, proprio per raggiungere il massimale dei gettoni di presenza. Lei ha presentato questa mozione, ora cosa farà? Andrò avanti, intanto penso che il primo risultato lo otterrò perché scovate queste persone, questi gettonari, sicuramente non parteciperanno più alle prime convocazioni e sicuramente nelle commissioni staranno ben attenti di indicare un ordine del giorno e soprattutto di discuterle e non percepire il gettone in caso contrario. Ora ho presentato altresì questa mattina proprio una mozione con la quale proprio chiedo che venga abolito questo sistema, proprio abolito.